Buongiorno America! Canale 5 è lieto di offrirvi la sera della vigilia di Natale un concerto in esclusiva dall'Aula Paolo VI di Città del Vaticano un appuntamento che per tradizione ogni anno unisce artisti di tutto il mondo in un canto d'augurio e di speranza Cristina Parodi presenta quinto concerto di Natale in Vaticano mercoledì alle 21 su Canale 5 Contro le doppie punte c'è un'alternativa alle forbici è il nuovo balsamo Pantene la sua provitamina penetra più a fondo e protegge dalle doppie punte provalo per 14 giorni e vedrai nuovo balsamo Pantene per capelli così sani che splendono la mia ricerca creativa ha uno scopo preciso catturare l'energia pura per trasformarla in sculture proprio come Vectra Turbo Diesel che cattura la potenza per trasformarla in emozione e piacere della forma tecnologia 16 valvole iniezione diretta e gestione elettronica per la prima volta insieme in un turbo diesel da 101 cavalli nuova Opel Vectra 2000 DTI 16 valvole arte in movimento Cubè imperiale Berlucchi perché gli italiani non sono secoli a nessuno Battesimo! Battesimo! Il Battesimo! Metti qua! Persa anche stavolta! Ciao siamo lonti, siamo persi, non sapevo dove andare, si richiami, ciao! Ma come lo usi il telefonino? Perché? Con la tarifa urbana mobile team chiami a sole 280 lire tutti i telefonini è una città a scelta e se ti abboni entro dicembre anche tutta Italia Stop! Tra dieci minuti la scena del bacio! Con queste labbra? Aspetta, ti do... No, ho io qualcosa che funziona velocemente La Bello Med aiuta le labbra screpolate è provato clinicamente Azione! Stop! La Bello Med funziona velocemente Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale da mio! Che gioia starla a guardare E io per farlo felice Gli do Cesaro ogni giorno Cesaro sceglie con cura le carni più tenere Per offrirgli pranzetti deliziosi Perfettamente bilanciati E a lui piacciono tanto Cesaro per amarlo come lui ti ama Eccolo arriva Una linea mozzafiato Agile, potente, inafferrabile A Hyundai, nuovo coupé di Buron Il suo nome significa squalo E vedrai su strada Nuovo coupé di Buron Non fartelo scappare Oggi sono i parenti Il panettone è morta Che è di un morbido Il Natale è proprio una bella festa Ma oggi non è Natale Non è Natale Oggi è il mio compleanno In dicembre Panettone motta Anche oggi è Natale Il Natale quando arriva, arriva Veleggiai per sette giorni e sette notti Senza incontrare terra Le mie scorte di vivari erano ridotte al minimo E cominciavo a perdere la speranza Terra Terra Giovedì e venerdì alle 20 e 35 su Rete 4 I viaggi di Gulliver Sei caduto dal cielo? Sei l'uomo della luna? Dal famoso romanzo di Jonathan Swift Le indimenticabili avventure di un eroe fuori dal tempo A Natale, regalati una favola I viaggi di Gulliver Giovedì e venerdì alle 20 e 35 su Rete 4 Tu sei la stella E il Natale si accende intorno a te Il Natale Vodafone è tutto intorno a te I'm in love I'm in love I'm in love I'm in love Grazie a tutti.